Detector Valerio Ciao a tutti Detector Valerio vedrai qua come va? e ho qui un segnale aspettate ho già fatto una piccola buchetta qua ma sta sotto a sto sasso vediamo un po' eh sta qua sotto vediamo un po' eh trovo qualcosa di buono dove sei? sta qua no non c'è sta ancora sotto ancora era questo qua che stava qua sotto il zappo ecco già la avete qua sotto manz moneta aie un po' questa cosa che è si è un vittorio secondo 5 centesimi ecco qua ecco qua si metto io secondo non sei tanto bene vabbè vabbè al prossimo ecco qua ho un segnale qua sotto aspettate gira la fotocamera un segnale un segnale qua sotto un segnale qua sotto pure è buono vediamo eh vediamo se l'ho preso si ecco eccola uh bella grigia spero non è d'alluminio uh cazzo è d'argento minchia qui in montagna tiè è è pure una formica sopra ecco dietro tiè fantastica qui in montagna tiè beccatevi questa tutta per voi fantastica tiè 65 se suono e al prossimo ciao qua ho un segnale sotto a sta roccia e mo ci vediamo subito tiè senti quanto è morbida la terra vediamo un po' è morbida la terra però cosa è qua? eccolo ha moneta mazza che culo qui sotto in mezzo incastrato vediamo un po' che cavolo le moneta aspetta un attimo non si vede tanto bene devo pulirla dalla faccia sembra un vittorio manuale terzo 10 centesimi vedete un po' più di luce e non me la vediamo 10 centesimi devo pulirla questo è il vittorio manuale terzo questo è il vittorio manuale terzo e al prossimo qui ho un segnale sentite eh ora un 61 ora ho già fatto una piccola buca vediamo eh vediamo eh maletti maletti tafani qui in mezzo eccola qua piccola piccola questa sarà probabilmente no mi è caschiato probabilmente sarà un centesimo quanto è piccola sgrana sgrana aspettate un centesimo si un centesimo 1862 zecca di napoli non mi si vede non mi si vede non mi si vede maledetto bastardo aspettate non mi si vede vabbè non mi si vede comunque un centesimo di vittorio rimone secondo e al prossimo video qua un segnale madonna come si è levato subito aspettate eh eh ho levato sta qui in mezzo non lo trovo non lo trovo eccola una moneta vediamo un po' questo è un vittorio ma non è terzo credo del primo impero c'è l'aquila dietro ecco qua ecco qua non si è sgranato ma no come fancazzare non si sgrana l'immagine ecco qua vedete e al prossimo video qua sotto ho un segnale scaviamo subito eccolo 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 c'è due buchi questo sa che è un bottone ok andiamo avanti e sgraniamo l'immagine se c'è una mazza aspettate eh ok eh ci sono due leoni e uno scuro in mezzo questo è un bottone di 100 o 200 anni fa o 300 anni fa bello e tu cosa sei? mi mortacci quanto sei grosso guarda che palle guarda che bestia imponente e qua finisco il video ci sta facendo buio ops vi saluto ciao qui su andiamo qua bravo seduto bravo divino bello ahhh 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 ahhh